Lei è Abby, è una galvina molto dolce, l'abbiamo incontrata nel paddock 3, è molto socievole, giocosa, ci ha fatto un sacco di feste, è una galvina giovane, avrà più o meno due anni, due anni e mezzo, è arrivata con una frattura alla mandibola però adesso si è perfettamente rimessa, è stata curata e quando siamo passati tra i paddock era un pochino nervosa perché ci sono tutti i cani che abbaiano e quindi c'era un po' staventata però poi ce l'ha fatta e si è affidata ed è dolcissima, ha superato il momento critico. Gatti? Gatti è perfetta, non le importa niente, li ha guardati ma anche no, è un amore di galvina.